Il reddito alimentare è un progetto sperimentale al quale Napoli ha aderito. Abbiamo ottenuto un milione e mezzo di euro che spenderemo in tre anni e che darà la possibilità a piccole e grandi attività commerciali, distributori alimentari, di poter donare beni alimentari prossimi alla scadenza o non commerciabili, da donare poi a persone indigenti o in gravi condizioni sociali. L'ente terzo settore potrà andare a recuperare questi beni e poi li distribuirà alle persone indigenti che saranno segnalate attraverso i servizi sociali, attraverso la rete della Caritas, delle associazioni, della diocesi o di chi ne fa richiesta in maniera autonoma. Abbiamo da poco pubblicato un bando che prevede tre azioni. Una è quella per le società di comunicazione perché avremo quasi 150.000 euro per poter comunicare questo progetto, poi un bando per tutte le grandi e piccole catene alimentari e poi il terzo bando per gli enti e il terzo settore. Faremo una coprogettazione per i fondi ottenuti dove inizieremo a studiare, a programmare i luoghi fisici dove verranno presi questi beni e dove poi saranno ridistribuiti. Noi siamo fiduciosi nella partecipazione di tante attività commerciali che inizieranno a partecipare a questo progetto sperimentale e sono fiducioso anche negli enti del terzo settore, le associazioni e le cooperative che si renderanno disponibili a coprogettare con l'assessorato al welfare questo progetto. Grazie.